Se fate degli errori grammaticali che sono tutti particolari, per esempio voi mettete l'articolo determinativo davanti al nome proprio di persona, la Sandra, la Marta, la Silvia, no è sbagliato, ve lo volevo dire, no perché siccome ci prendono in giro sempre a noi che diciamo esce il cane che lo piscio, comunque anche voi, Anche voi fate gli errori, no? A parte che l'articolo determinativo davanti ai nomi proprio in siciliano non va bene perché fa subito effetto elettrodomestico, cioè se tu dici la Carmela, pare una caffettiera, non va bene. E niente, ho sentito un crack, pensavo fosse il cuore e invece mi si sono rotti i coglioni. Quello che disse il buongiorno si vede dal mattino sicuramente faceva colazione con la Sambuca, altrimenti non si spiega. Buongiorno! O anche no.